Hai mai perso le chiavi di casa? Ma sai quante volte? Hai mai fatto una pazzia per amore? Certo che ho fatto una pazzia per amore, io vivo di pazzia per amore, sono un'eterna cogliona proprio. Hai mai spiato un vicino? Eh sì, l'ho spiato. Era in un albergo a Roma che aveva tutta una vetrata e secondo me questi due lo facevano apposta. Si sono messi ad avere un rapporto sessuale. Hai mai inviato a qualcuno il messaggio sbagliato? Sì, ho inviato una foto a una persona sbagliata. Hai mai fatto una festa epica in casa? No, una festa epica in casa no, qualche after sì, ma non era una cosa normale. Poi voglio dire con la console è certo che le feste sì.